Manga Forever è un sito web italiano dedicato al mondo dei manga e dell'animazione giapponese. Offre agli appassionati un'ampia gamma di contenuti, tra cui recensioni dei manga, delle serie tv anime, notizie, interviste e approfondimenti sul mondo dei fumetti e dell'animazione. Uno dei punti di forza di Manga Forever è la vastità del suo catalogo. Il sito copre una vasta gamma di generi di manga e anime, offrendo così un'ampia scelta agli appassionati. Inoltre ha una sezione dedicata alle recensioni, che fornisce una valutazione dettagliata di queste vere e proprie opere d'arte, consentendo agli utenti di ottenere informazioni utili prima di fare una scelta di lettura o visione. Un altro punto di forza è la qualità dei contenuti. Gli articoli e le recensioni pubblicati su Manga Forever sono accurati, ben scritti e informativi. Inoltre il sito offre anche interviste con autori e artisti famosi che aggiungono un ulteriore valore al suo contenuto. Tuttavia Manga Forever ha anche alcuni punti deboli. Uno di essi è l'organizzazione del sito che a volte può risultare poco intuitiva e disordinata, rendendo difficile la navigazione tra le diverse sezioni. Inoltre alcune recensioni possono mancare di obiettività e sembrare troppo di parte.